Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi in questo nuovo video vi spiego come collegare delle cuffie bluetooth su windows 11 ovviamente per collegare queste cuffie se sulla vostra scheda di rete connessione wifi scheda di rete nel vostro pc c'è anche il bluetooth puoi fare direttamente qua sopra clicchi qua sopra e se c'è la spunta bluetooth tu puoi connettere le tue cuffie invece se non hai una scheda di rete con il bluetooth integrato io ho usato cioè io ho comprato direttamente una chiavetta bluetooth come puoi vedere una chiavetta bluetooth questa qua e adesso provo a collegarla così al pc e se vado a cliccare di nuovo qua sopra mi esce la spunta bluetooth questa qua questa qui quindi vado clicco sopra vado su altre impostazioni bluetooth e adesso andiamo a collegare le nostre cuffie quindi le cuffie che vado a collegare sono queste quindi sono queste non mi basta che far aggiungi dispositivo cliccare su bluetooth ora prendo un attimo le mie cuffie se lampeggia ovviamente come puoi vedere le mie cuffie bluetooth stanno lampeggiando questa è la lucina sta lampeggiando e non mi resta che andare su aggiungi dispositivo bluetooth e aspettare che si colleghino eccole qua quindi le cuffie sono uscite sulla mia chiavetta bluetooth una chiavetta bluetooth che costa solamente 5 euro funziona veramente funziona ci vado a cliccare qua sopra connessione in corso faccio fatto ho connesso così le mie cuffie mi dice anche la batteria delle cuffie microfono connesso e se vado sull'impostazione dell'audio e spunta così anche le cuffie bluetooth quindi mi spuntano anche queste quindi se questo video è stato utilissimo su come connettere delle cuffie bluetooth sia queste auricolari funziona lo stesso anche con quelle grandi i padiglioni tipo come queste queste qua però non sono soprattutto quelle cuffie sono con il cavo quindi se ti è stato utilissimo questo video iscriviti, lasciate un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao